Oh, è davvero quello che penso che sia. Già, vento miracoloso, grande, madre natura. Quello non era vento. Rivediamo la scena con gli infrarossi. Onde telecinetiche, c'è qualcuno che deve darci una spiegazione. Ok, senti, il fatto è che, come sapete, ho fatto grandi cose ieri, ma devo confessare che... L'ho salvato io. Ha salvato lui qualcosa? È vero. Io sono l'eroe che ha salvato l'idiota. Fammi capire bene. Max Thunderman vede una persona in pericolo e decide di salvarla. Sembra che sia andata proprio così. Di proposito? Certo, di proposito. So che a voi può sembrare sorprendente, ma l'ho fatto. Barb, sai che cosa significa questo? Finalmente la fase è finita! Sapevo che sarebbe successo, vecchio mio! Chiamiamo la lega dei supereroi e annunciamo che abbiamo due eroi adolescenti in famiglia! Chiamiamo la lega dei superi e non vedi, ma le ha azzurruito in famiglia! Grazie.